Ben trovati anche alla pagina sportiva del TGNO. In primo piano la lucchese Guido Casotti ha rianalizzato a mente fredda la conferenza stampa di presentazione di Massimo Morgia. Il vero protagonista dell'appuntamento è stato il presidente rossonero Andrea Bulgarella, apparso in grande forma. Il numero uno rossonero ha promesso una grande lucchese. Finalmente la lucchese è tornata a parlare. Lo ha fatto venerdì pomeriggio nell'attesa conferenza stampa che ha avuto in Massimo Morgia l'attore principale ma che ha proposto il presidente Andrea Bulgarella come mattatore assoluto. Quando mi parlano ma tu fai la squadra. Primo il mio amico del tirreno. Ma non si preoccupa, ci vuole tempo. E io invece no, non ho tempo. Perché in Massimo non abbiamo tempo. Siamo settantenni quindi dobbiamo fare cose in fretta. Abbiamo l'esperienza eccetera. E quindi io sogno di portare la lucchese non in serie B ma in serie A. Ci devo tentare, ci credo, ci metto tutte le mie forze. Poi i presuntuosi vengono sempre, hanno sempre ragione. Io non sono un presuntuoso, quindi può succedere lì. Morgia, romano della Garbatella, ma da 44 anni lucchese nel cuore a tutto tondo, si è presa una bella gatta da pelare come nuovo responsabile del settore giovanile. La ricostruzione dalle macerie di un settore appunto polverizzato da rinondanti fallimenti degli ultimi 15 anni ci metterà tutto se stesso, ne siamo convinti, ma non dovrà permettersi errori. E gli stesso ne è consapevole. Sono sempre stato molto sincero e molto schietto. Io ho scelto questa cosa qua perché mi sono rotto le palle di sentir parlare male della mia lucchese. E ci saranno fatte i sacrifici, quello le chiederò a tutti. E quindi perché io voglio ricreare un ambiente che la maglia della lucchese sia la maglia che io ho sempre avuto, eppure ne ho avute tante, ma questa è quella che io sento, sento di più e ho sentito sempre di più. Ha sorpreso tutti, ma forse non lo conoscevamo abbastanza, forse non si era fatto conoscere abbastanza, la verve, la spigliatezza e la voglia del presidente Bulgarella. Il numero uno rosso nero è andato a ruota libera, talvolta richiamando i giornalisti a porgli domande cattive. Così quando gli abbiamo chiesto se sarà grande lucchese, lui si è detto pronto a firmare, controfirmare e sottoscrivere. Vogliamo credergli? Sì, forse. Siccome Bulgarella ha più volte evocato la parola fatti, ecco quelli aspettiamo e noi con tutti i tifosi rossoneri. Lo stadio entro la fine del mese, il nuovo progetto e poi una squadra finalmente all'altezza del blasone della Pantera. Da divertirsi. Presidente, vogliamo darle fiducia, ma siccome fra una settimana scatterà il ritiro del ciocco, aspettiamo tutti buone nuove. Adesso il tennis, il torneo di Wimbledon. Partiamo dal cartellone, dal tabellone femminile. La nostra Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del torneo londinese con un pizzico di fortuna. La 28enne tennista lucchese ha usufruito infatti del ritiro dell'americana Madison Keys sul 5-5 del terzo set. Jasmine aveva vinto il primo set 6-3 e perduto il secondo 6-7 al tie-break. Poi in parità nel terzo set c'è stato il ritiro della tennista americana. Sul versante maschile, storica qualificazione agli ottavi di finale per Lorenzo Musetti, il 25enne tennista di Carrara battuto in 4-7 l'argentino Francisco Comesana. Lunedì affronterà il francese Giovanni Perricard. I quarti di finale non sono un sogno. E adesso il ciclismo. Torniamo ai campionati italiani giovanili e femminili di sabato a Lucca. Sveva Bertolucci smentisce l'antico adagio di Nemo Profeta in Patria. La tredicenne del gruppo sportivo Capannori ha infatti vinto per distacco la prova del campionato italiano femminile esordienti di primo anno svoltasi sulle strade amiche di Lucca. 98 le atleti che si presentano al Via in una bella mattinata di sole, 79 quelle che concluderanno la corsa. L'attacco di Sveva non permette nessuna possibilità di replica alle avversarie. Passerella finale per la ciclista Capannorese che di fronte al palazzetto dello sport di Via delle Tagliate taglia solitaria al traguardo coprendo i 39 chilometri e 300 metri in un'ora 06.32 alla media di 35.441. Alle sue spalle a 20 secondi la temibile forte piemontese Nicole Bracco e a 30 secondi Ginevra Sambi dell'Emilia Romagna a completare il podio. Seguono con distacchi maggiori le sue compagne di squadra della Toscana, ovvero Vittoria Donno quarta, Sofia Micchi quinta e Sara Colzi sesta, altra esponente del ciclismo nostrano. Una prova di forza da parte di Sveva Bertolucci che conferma il suo grande talento, il talento di una ragazzina comunque, anche se ovviamente vista l'età si deve sempre andare piuttosto cauti con i giudizi e le prospettive che in questo caso sono davvero a lungo termine. Da aggiungere infine che tra le esordienti di secondo anno l'ha spuntata la friulana Anna Monesso. L'Atletica ancora una medaglia tricolore per la Virtus Lucca, l'ha conquistata Alessandro Sant'Angelo, terzo sui 3.000 metri ai campionati italiani allievi di Molfetta. Il sedicenne atleta di Santa Croce sull'Arno ha impiegato 8 minuti 29 secondi e 28 decimi nella gara che ha visto il successo di Vittore Simon Borromini davanti a Marco Coppola. E' sempre ai campionati italiani allievi, un terzo e un quarto posto per le due grandi speranze dell'Atletica Pietrasanta-Versilia. Medaglia di bronzo per Martina Ricci nel lancio del martello, mentre Isotta Paiotti è arrivata quarta sui 2.000 siepi. Passiamo all'Hockey, a settembre a Novara i World Skate Games, saranno protagonisti anche tre coach via Reggini. Sono ben 66 le squadre in rappresentanza di 239 nazioni iscritte ai World Skate Games che saranno organizzati a Novara dal 7 al 22 settembre prossimi. Per l'Hockey su pista sono 27 le squadre senior maschili, 19 le femminili e 20 i campionati under 19 maschili. A guidare le panchine di tre nazionali iscritte ai mondiali ci saranno allenatori via Reggini, tutti allievi del maestro Creso Baccherotti, che ha plasmato nel Cgc tanti giocatori che sono poi diventati validi tecnici. Alessandro Bertolucci, coach della rappresentativa azzurra. Francesco Dolce, allenatore della nazionale austriaca nella categoria Challenger Championship Man, che è stato sia giocatore che allenatore dei bianconeri. E infine a guidare la senior maschile e femminile più l'under 19 della nazionale indiana ci sarà Alessandro Baccherotti, già allenatore del Cgc SPV femminile, rotellistica camaiore e allenatore della squadra rugby dei Titani. Figlio del maestro Creso. Una bella soddisfazione dunque per i tetra e i clici via Reggini. È tutto anche per lo sport. Ci rivediamo tra pochissimo per la terza parte del TG. Noi dopo la pubblicità.